Allora, ormai sta, diciamo, passando alla storia la fase 1 della campagna di vaccinazione. La fase 1 era quella dove si dava la caccia ai furbetti del vaccino, cioè quelli che saltavano le code per avere il vaccino prima degli altri, quindi gli ansiosi di essere vaccinati. Stiamo passando alla fase 2 dove un po' alla volta invece l'attenzione, il focus viene spostato su quelli che stranamente non vogliono vaccinarsi, i cosiddetti riottosi, anzi come li chiama la grande stampa, i dispersi. All'interno di questa categoria c'è un'altra sottocategoria di possibili destinatari del farmaco che, poverini, avrebbero ben poche ragioni per chiederlo. Stiamo parlando ovviamente dei minori che, come noto, hanno un rischio praticamente nullo di avere ripercussioni negative in seguito alla contrazione del famoso Covid-19. E tuttavia, il 28 di maggio, l'Agenzia Europea per i Farmaci, l'EMA, molto probabilmente autorizzerà il vaccino, quindi la somministrazione del vaccino anti-Covid ai ragazzi dai 12 ai 15 anni. Il tutto con la benedizione di Pfizer e di Moderna che hanno già fatto sapere a quanto pare che questa somministrazione non presenta assolutamente nessun tipo di rischio, nessun tipo di problema. Questo ovviamente ci consola perché viene poi da due aziende che non hanno, come noto, alcun interesse in materia. Ma in tutto questo, se noi muovessimo una critica di elementare buonsenso, e cioè quella per cui sembra un po' azzardato sottoporre alla somministrazione di questo farmaco dei soggetti che, secondo i dati di tutte le più importanti entità di rilevazione statistica, compreso l'Istituto Superiore della Sanità, hanno un rischio pari a zero di decedere per effetto del virus. Bene, se noi lo facessimo saremmo immediatamente tacciati ovviamente di quantomeno terrapiattismo. Allora non lo facciamo, ma ci permettiamo di riportare un bell'articolo di Peter D'Angelo pubblicato su ilfattoquotidiano.it, quindi stiamo parlando di una testata assolutamente, diciamo così, autorevole e comunque non tacciabile di populismo, di qualunquismo a prescindere, in cui il giornalista ci riporta una notizia molto interessante che viene da oltremanica. Che cosa succede? Succede che in Inghilterra 40 ricercatori, docenti universitari e medici hanno scritto una bella lettera all'Agenzia Regolatoria Nazionale sui Medicinali della Gran Bretagna. E perché l'hanno scritta? L'hanno scritta proprio per mettere in guardia dal rischio di ripetere, dicono loro, gli errori della storia, il rischio connesso alla vaccinazione proprio della categoria dei minorenni. Ma perché? Quale sarebbe questo rischio? Gli estensori di questa missiva dicono che per i vaccini Covid-19 i potenziali benefici sono chiari per gli anziani e i vulnerabili. Tuttavia per i bambini l'equilibrio tra benefici e rischi sarebbe molto diverso. E fin qua siamo sul piano della pura logica, ma comunque ve lo riferiamo perché questi sono scienziati, quindi è la scienza che parla. Non corriamo il rischio appunto di essere censurati. Ma ancora più interessante è quello che questi dottori, questi ricercatori, questi medici, lo ripeto, dicono a proposito di ciò che accade in passato. Per esempio, il vaccino per l'influenza suina Pandemrix, lanciato dopo la pandemia del 2010, ha provocato oltre mille casi di narcolessia in bambini e adolescenti prima di essere ritirato. Anche Dengvaxia, un vaccino contro la Deng, è stato distribuito ai bambini prima dei risultati completi della sperimentazione e 19 bambini sono morti per un possibile potenziamento anticorpo dipendente prima che il vaccino fosse ritirato. Ora, ci risuona ancora nelle orecchie il giusto monito di ieri del premier Draghi, quando diceva che è inaccettabile la fotografia dei bambini morti per aver semplicemente tentato di approdare in Italia attraversando il Mediterraneo, quindi la tragedia dei minori nell'ambito delle migrazioni a cui assistiamo ogni giorno. Una frase, quella di Draghi, assolutamente condivisibile, è in assoluto inaccettabile, la morte anche di un solo bambino. Ma allora ci chiediamo perché dovrebbe essere accettabile, sotto pure a questo rischio, un bambino con un vaccino che quel bambino molto probabilmente avrebbe anche tutto il diritto di non ricevere, visto che i rischi che corre con la malattia di cui stiamo parlando, e non lo diciamo noi, lo ripetiamo, lo dicono questi medici d'oltremanica, sono praticamente inesistenti. Per concludere, che cosa potremmo dire? Beh, potremmo dire che forse in un passaggio di questa bella lettra che Peter D'Angelo commenta nel suo articolo, c'è in qualche modo la chiave di volta per capire un'epoca. E la chiave di volta è questa. Noi stiamo sollevando, dicono gli estensori della lettera, queste preoccupazioni come parte di un dibattito informato che è a sua volta una parte vitale del corretto processo scientifico. Cari dottori, dico io, proprio per questo non sarete ascoltati, perché viviamo in un'era in cui il concetto stesso corretto di scienza, che è un dibattito tra opposte tesi, è assolutamente rifiutato. L'unica cosa accettata è quella dell'adesione dogmatica a una verità che viene dall'alto e che viene spacciata per scientifica e che non ammette mai discussioni, perché è una verità che deve essere imposta e a cui tutti i cittadini debbono ubbidienza anche a costo e a prezzo della loro salute e della loro vita.